Oggi la ricetta del ciambellone marmorizzato, bianco e al cioccolato. Iniziamo a montare le uova con lo zucchero. Quando il composto diventa bianco e spumoso aggiungiamo lo yogurt. Aggiungiamo anche l'olio di siemi e iniziamo a mescolare. Completiamo con la farina setacciata insieme al lievito. Adesso mettiamo metà del composto nel nostro contenitore e aggiungiamo il cacao diluito con il latte. Il cacao deve risultare cremoso prima di essere aggiunto al composto. Trasferiamo i due composti in uno stampo imburrato e infarinato. E adesso possiamo infornare. Grazie. 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 Grazie.